Il manifesto è quello di Molise Cinema, noi siamo con Chiara Cavalieri, attrice e giurata nell'occasione, quindi vesti i tuoi panni, perché tra l'altro partecipi anche a un cortometraggio di Simone D'Angelo. Che cortometraggio è? Descrivici. Allora, abbiamo appena presentato i Futurieri con la regia di Simone D'Angelo, un cortometraggio girato oltretutto qui in Molise, a Civitacampo Marano, è una storia social ambientata nel fine 1700 e i nostri personaggi monizani, cioè Vincenzo Cuoco, Camile Pepe, e la storia è un po' un pretesto per raccontare l'epoca dei social, che cosa sarebbe successo se i social ci fossero stati 200 anni fa. E quindi è stata un'occasione oggi di fare questa prima qui in Molise, io sono vota appunto in doppia veste da attrice e da giurata. Hai visto già dei corti? Sì, ho visto tutti i corti perché sono stata la giurata dei corti italiani della sezione per corsi, abbiamo già scelto, però manteniamo il segreto fino alla fine. Ah sì? I corti, devo dire, tutti di grandissimo livello ed è stato veramente, veramente difficile, siamo stati due ore a scelperlarci, però poi alla fine colui che ha vinto ha molto meritato. E' bello perché il linguaggio del corto non è fruibile sempre, nel senso che noi riusciamo a vedere i corti solo, esclusivamente nei festival. Quindi il fatto che ci sia questa possibilità appunto di avvicinarsi a un linguaggio che non è appunto nello televisivo, nello di film, cinematografico, è bello perché ci sono veramente lavori di qualità e giovani, sono talent giusti. Ciao! Bellissima questa atmosfera di... Sì, io sono sempre venuta come pubblico e cerco di non mancare mai a nessuna edizione, però questa volta mi sento molto più felice perché appunto faccio parte di questa grande famiglia. Anche più coinvolta in qualche modo. Anche coinvolta perché questo è un festival di inclusione, ne parlavamo prima appunto perché non c'è l'attore da una parte, il regista dall'altra, è un po' l'anima molisana, ovvero di condivisione, dello stiamo insieme, mangiamo assieme, mangiamo insieme, però ecco non è solo il mangiare, che di solito si parla sempre del monisano, per la neve, invece tocca dare importanza a questi eventi. Senti, tu hai fatto tantissimo teatro in questi anni e adesso hai partecipato a diversi corti anche, sei partita da Campobasso nel 2000 con un sogno, sei diventata un'attrice adesso, sono passato tanto tempo, vivi a Roma, vivi a Roma e la tua vita com'è adesso? Come si struttura la vita di una molisana che fa l'attrice a Roma? Allora, si sopravvive, si aspettano i provini, si lavora, quando non si lavora si fa il recupero crediti, perché al momento mi sono avvicinata molto al teatro sociale, sono entrata a far parte di questa compagnia, si chiama Compagnia Faltapascio Cinema Teatro, che è una compagnia fondata da attori professionisti, ex detenuti e nonna, è un ambiente bellissimo, stiamo portando scena a questo spettacolo che si chiama Famiglia, con cui spero di venire anche in Molise, la regia di Valentina Esposito e nella compagnia c'è anche Marcello Fonte, che tutti conosciamo per la palma d'oro a Cannes, per Gottman, quindi è un'esperienza che non solo ti arricchisce professionalmente, ma anche umanamente, perché mentre in altre situazioni magari gli attori interpretano, in questo caso c'è proprio del materiale umano che viene condiviso anche sulla scena, e devo dire che è stata ed è ancora un'esperienza estremamente forte, e appunto sono ricostissima. Senti, hai lavorato tanti anni con Leo Gullotta, lo senti ancora? Sì, siamo molto amici del Leo, il Leo è stato anche la voce narrante appunto dei futurieri, e sì, abbiamo finito due anni fa la tourne insieme, Spirito Allegro, e sì, è un carissimo amico, nonché un grande maestro, mi ha insegnato tantissimo. Nel futuro prossimo? Nel futuro prossimo aspettiamo un altro spettacolo a settembre, con un'altra compagnia di ragazzi giovani, lo faremo nei torri di Roma, e poi ho altri, una piccola fiction, diciamo che le cose si muovono. Tante cose non le possiamo dire. Ah, tante cose, le pescare avanzia. Vabbè, allora mi sa che ci dovremmo sentire fra un mesetto, perché ci dovrà dire qualcosa di molto interessante. Speriamo. Grazie. Ciao a tutti.